Buongiorno, benvenuti a questa lezione di sistemi informativi aziendali, in particolare la seconda parte della lezione che riguarda la modellazione concettuale. Abbiamo parlato nella prima lezione di modellazione concettuale dei concetti di base, ovvero il concetto di classe, quello di attributo e quello di associazione. Adesso vediamo un tipo particolare di associazione che viene detta classe di associazione. Abbiamo visto che un'associazione di per sé non porta nessuna informazione oltre al collegare due particolari classi, in particolare due oggetti, nel caso abbiamo a che fare con il livello di attrazione più basso. Quindi a volte quando esiste un'informazione che non appartiene a una classe o all'altra ma dipende, a volte si dice è funzione di, la coppia di oggetti che sono collegati, ecco allora in questo caso io devo poter associare all'associazione delle informazioni. Questo è possibile farlo utilizzando una classe di associazione che viene visualizzata in questo modo, quindi è un'associazione normale rappresentata dal segmento, un trattino, un altro piccolo segmento tratteggiato e la struttura di una classe, quindi assolutamente analoga a quella delle altre classi. In questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo un consulente, un'azienda e abbiamo la tariffa che viene applicata dal consulente all'azienda. Se la tariffa non è un valore specifico e fisso per il consulente, non è neppure un valore specifico per un'azienda, ma bensì dipende dal consulente e dall'azienda, quindi un consulente applicherà tariffe diverse ad aziende diverse, allora in questo caso la tariffa non può finire dentro il consulente, ma bensì deve stare sull'associazione perché dipende dalla coppia consulente e azienda che stiamo considerando. Quando abbiamo a che fare con una classe di associazione possiamo molto spesso andare a modellare la stessa informazione utilizzando una classe intermedia, che in questo caso abbiamo chiamato contratto. Nel caso della classe associazione la classe dell'associazione ha esattamente lo stesso nome dell'associazione, quindi workfor e workfor anche qui. Quello che possiamo fare è prendere una classe di associazione e trasformarla in una classe vera e propria, che è collegata a entrambe le classi che prima erano collegate dall'association class. A questo punto come vado a inserire le molteplicità? Sostanzialmente la molteplicità che stava sul lato consulente la ritrovo attaccata al contratto opposta all'azienda e viceversa la molteplicità che stava sul lato azienda me la ritrovo attaccata al contratto sul lato opposto al consulente. Il contratto è proprio nell'ottica di essere un qualcosa che è univoco per la coppia consulente azienda legato con una molteplicità 1. Quindi il contratto si riferisce a un particolare consulente e a una particolare azienda. Ovviamente un consulente può avere tanti contratti, ciascun contratto farà riferimento a un'azienda e un'azienda può avere tanti contratti e ciascun contratto farà riferimento esattamente a un consulente. Qual è la differenza tra queste due alternative? Allora in generale sono in grado di modellare quasi la stessa cosa ma la classe intermedia permette di avere una semantica un po' meno stretta e definita. Perché? Perché se ricordiamo i limiti delle associazioni ci ricordiamo che dato un consulente e una particolare azienda queste possono essere legate oppure no dall'associazione. Ecco la classe associazione non cambia nulla quindi un consulente un'azienda o sono legati o non sono legati. Non possono essere legati più volte quindi io non posso avere un consulente che lavora per la stessa azienda più volte magari con delle tariffe diverse. Nel caso invece della classe intermedia contratto questo è possibile perché avrò diversi contratti che legano la stessa coppia consulente azienda cosa che non è rappresentabile invece con l'associazione. Quindi in generale io vado a utilizzare una classe di associazione quando la mia la mia tariffa è una funzione della coppia consulente azienda mentre invece vado ad utilizzare una classe intermedia se la tariffa invece è un qualcosa che è specifico per ogni singolo rapporto lavorativo che c'è tra il consulente e l'azienda quindi dallo specifico contratto. Un altro tipo di legame che può esistere tra le classi è quello che viene chiamato di specializzazione o visto dall'altro punto di vista di generalizzazione. Questo è rappresentato graficamente con un segmento e una punta che è un grosso triangolo che rappresenta la punta di una freccia mentre invece per le associazioni normali non c'è una freccia rappresentata in questo modo. Cosa vuol dire che una classe specializza un'altra? Vuol dire che se la classe A, B specializza la classe A significa che B eredita, ha esattamente le stesse caratteristiche di A. Cosa sono le caratteristiche in questo caso? Gli attributi e eventuali partecipazione in associazioni. Quindi se io vado a dire che B specializza A vuol dire che tutti gli attributi che io ho definito in A automaticamente, in maniera implicita, quindi non li devo rappresentare di nuovo, implicitamente fanno parte anche di B. E se A era legata a un'altra classe tramite un'associazione, quell'associazione vale anche per B. Inoltre B può avere altre caratteristiche aggiuntive, ovvero può avere altri attributi oltre a quelli di A e può partecipare ad altre associazioni a cui A non partecipa. In generale quando abbiamo una specializzazione possiamo aggiungere, non possiamo invece cancellare. Quindi B avrà tutti gli attributi di A più altri. Non potrà averne di meno. A cosa serve la specializzazione o generalizzazione, se vogliamo vedere dall'altro punto di vista? Beh, capita molto spesso di avere un concetto generale e più concetti che sono concetti più specifici, ma sostanzialmente assomigliano tanto a quello generale. Per questo motivo, invece di andare a ripetere tutto quanto è già stato detto per un concetto più generale, sia in un concetto specifico che in un altro, che eventualmente in un altro ancora, quello che faccio è di andare a definire le caratteristiche comuni in una classe detta di base e aggiungere le peculiarità dei singoli concetti nelle classi più specifiche. Quindi in questo caso io ho una classe di base persona che avrà un nome, un cognome e un codice fiscale e avrò due sottoclassi, impiegato e studente, che sostanzialmente specializzano una persona. Quindi implicitamente hanno anche loro nome, cognome e codice fiscale. In più l'impiegato avrà uno stipendio e lo studente avrà un numero di matricola. In generale, quando abbiamo un'associazione, diciamo che la classe più generale è la classe di base o la classe padre e le classi più specifiche sono le classi derivate o le sottoclassi. Abbiamo visto che è possibile interpretare le classi come rappresentanti degli insiemi che contengono tutti gli oggetti di quella classe. Ecco, come si inserisce la specializzazione barra generalizzazione in questa analogia? Beh, sostanzialmente, quando io ho una specializzazione, sostanzialmente vado a aggiungere un sottoinsieme. Quindi, data la persona, classe di base e impiegati e studenti come sottoclassi, ecco, la persona definisce un insieme di tutte le persone, mentre invece impiegati e studenti sono sottoinsiemi della persona. Questo vuol dire che ogni studente e ogni impiegato è anche una persona e quindi ragionevolmente avrà tutte le caratteristiche che è una generica persona, che non è né un impiegato né un studente. Ovviamente la configurazione di questi sottoinsiemi può variare molto, perché potrei avere che i due sottoinsiemi coprono completamente tutte le persone, quindi le persone sono o impiegati o studenti, oppure ne lascia alcuni scoperti. Inoltre, una persona può essere contemporaneamente un impiegato e uno studente, ovvero i due sottoinsiemi impiegato e studente, hanno un'intersezione nulla oppure no? Ecco, questi sono due aspetti che è importante andare a specificare. Per cui, quando si parla di generalizzazione, spesso è utile andare a specificare due caratteristiche, che sono la totalità o l'esclusività. Si dice che una generalizzazione o specializzazione è totale se l'unione di tutte le classi, di tutte le sottoclassi, praticamente copre la classe principale. Quindi non ci sono elementi che non ricadano in nessuno dei sottoinsiemi. Nel caso della nostra persona, impiegati e studenti, ecco, non è possibile che ci sia una persona che non sia né un impiegato né uno studente. Devono essere per forza una di queste due classi. Se invece, come nell'esempio che abbiamo visto nel diagramma di insiemi, ci sono degli elementi che non ricadono in nessuno dei due insiemi, allora si dice che la specializzazione è parziale, quindi totale o parziale. L'altro aspetto è l'esclusività. Quando io ho un elemento che o appartiene a un insieme, un sottoinsieme, oppure all'altro, ma è impossibile che appartenga a più di un sottoinsieme, si dice che la specializzazione è esclusiva, esclusiva o mutuamente esclusiva. Oppure, se lo stesso elemento, lo stesso oggetto, può contemporaneamente essere in uno dei sottoinsiemi, quindi essere sia un impiegato che uno studente, nel caso del nostro esempio, allora si dice che la specializzazione è inclusiva. In generale, se non si dice nulla, una specializzazione è intesa essere totale e mutuamente esclusiva. Quindi, nel caso di questa generalizzazione, specializzazione, non avendo annotato nulla qui, se è il caso vado ad annotare qui come un commento, eventualmente parziale oppure inclusiva, non dicendo nulla si intende che le persone sono o impiegati o studenti e non possono essere entrambi. Quindi, totale ed esclusiva. Se questo è nel caso, lo devo andare a indicare qua, per iscritto, indicando l'etichetta parziale o l'etichetta inclusiva o entrambe. Nel caso della specializzazione, noi abbiamo visto un esempio molto semplice in cui ho una classe di base, due sottoclassi. In generale, una classe derivata potrebbe essere a sua volta classe di base per un'altra classe. Per cui, posso andare a costruire quello che si chiama un albero di ereditarietà. Per cui, ho la specie vivente che ha due sottoclassi, animale e vegetale, l'animale ha come sottoclasse l'essere umano, il quale ha il venditore e il cliente e il venditore ha come sottoclasse il fioraio. Attenzione, quando utilizzate la generalizzazione o specializzazione per andare a costruire delle gerarchie, delle classificazioni, perché se ho un albero di ereditarietà molto profondo, quindi con tanti livelli, la comprensibilità di questa classificazione risulta abbastanza difficile. Per cui, in generale, è bene andare a limitare la profondità di questi alberi di ereditarietà. Andiamo a vedere un esempio di come possiamo utilizzare l'ereditarietà per andare a descrivere un caso concreto. Non so quanti di voi sono utilizzatori di Twitter, ma diciamo che se utilizzate altri social è facile andare a capire i concetti di base. Allora, in Twitter normalmente è possibile avere un tweet, il post barra messaggio, che è quello originale, dato un tweet di partenza è possibile avere delle risposte. Quindi, dato un tweet ho una risposta. Oppure, posso avere altri tweet che non sono risposte ma sono citazioni. Quindi, un tweet può citarne un altro. Quindi, posso fare riferimento ad altri tweet o come una semplice risposta e quindi sostanzialmente risulta sotto il tweet principale, oppure posso fare una citazione, quindi questo diventa un tweet a sé stante, ma non del tutto perché è legato e cita un altro tweet preesistente. come posso andare a modellare questo tipo di concetto? Beh, sostanzialmente il concetto è uno e il tweet e questo tipo di relazioni che esistono tra i tweet di risposta, i tweet di citazione e i tweet originali. Una possibile soluzione è quella di avere delle associazioni ricorsive opzionali. Allora, un tweet è legato a un altro tweet tramite una associazione di risposta a. Ovviamente essendo associazioni ricorsive e non essendo questa associazione simmetrica è necessario andare a specificare quelli che sono i ruoli. Quindi nella associazione risposta a avrò un ruolo originale e un ruolo risposta. Ok? Quindi il tweet di risposta vede 0 o 1 tweet. Quindi se un tweet è di risposta vedrà un tweet originale se un tweet invece è normale vedrà 0 tweet a cui risponde. L'opzionalità data da questo 0 ci indica proprio che un tweet può avere un tweet originale a cui risponde oppure no. Quindi un tweet può essere o di risposta oppure no. Viceversa se io parto dal tweet originale posso vedere 0 o più molti tweet di risposta. 0 se nessuno ha risposto a questo tweet molti se tanti hanno risposto. il discorso relativo alla citazione è di nuovo analogo quindi ho due ruoli il citante e il citato il citante può vedere 0 o 1 tweet scusate di citati un tweet può essere citato da 0 o più citanti quindi potrebbe non essere citato da nessuno oppure potrebbe essere potenzialmente citato da tanti altri tweet quindi in pratica volendo modellare questo caso specifico in cui ho un tweet originale una risposta e una citazione in pratica avrò un oggetto originale quindi l'insieme dei tweet o un'unica classe quindi un unico insieme ho la risposta o la citazione e ho l'associazione citazione di e risposta a ovviamente dato questo modello io posso avere una situazione in cui un tweet di risposta è anche una citazione oltre a essere risposta di un tweet è anche citazione di un altro tweet questo è quello che ci descrive il modello delle classi in realtà in twitter non è possibile che un tweet sia contemporaneamente risposta a un tweet e citazione di un altro per cui il modello delle classi che utilizza delle associazioni ricorsive in realtà ci permette di andare a descrivere una situazione che non è possibile all'interno di twitter e quindi se vogliamo avere un modello che descriva fedelmente quello che avviene all'interno di twitter io devo andare a utilizzare un altro tipo di soluzione una possibile soluzione è questa in cui ho una classe di base tweet e tre sottoclassi risposta semplice e citazione dove questa generalizzazione barra specializzazione è totale ed esclusiva io qui l'ho messo esplicitamente ma in generale posso omettere questa specificazione perché questa è la condizione di default per cui un tweet o è di risposta o è semplice o è di citazione questo mi dice che è esclusiva totale mi dice che un tweet deve essere per forza uno di questi tre in uno di queste tre classi ok non esistono tweet che non sono in nessuna di queste tre classi ma sono semplicemente dei tweet in questo caso una citazione può essere riferita a un tweet oppure una risposta può rispondere a un tweet ovviamente se io ho una risposta dall'altro lato avrò per forza un tweet quindi non ho più l'opzionalità uno significa che una risposta risponde a esattamente un tweet e una citazione analogamente è riferita a esattamente un tweet invece un tweet può avere zero o più risposte oppure zero o più citazioni vi ricordo che quando avevamo parlato di specializzazione abbiamo detto che la classe che specializza una classe di base eredita non solo gli attributi quindi testo e timestamp sono descritti qua una volta ma implicitamente compaiono nella risposta nel semplice e nella citazione ma anche la partecipazione alle associazioni quindi ogni tweet in realtà può giocare il ruolo del tweet quindi del citato sia che sia una risposta sia che sia un tweet semplice sia che sia una citazione quindi è possibile che una citazione sia citata da un'altra citazione e via di questo passo però essendo una generalizzazione totale ed esclusiva non è possibile che allo stesso tempo un tweet sia di risposta e di citazione per cui pensando all'insieme io ho in pratica una partizione dell'insieme dei tweet in tweet semplici tweet di risposta e tweet di citazione ok un'altra possibilità è quella di avere non più la classe di tweet semplice ma bensì avere semplicemente risposta e citazione e avere una specializzazione che questa volta non è più totale ma è parziale cosa vuol dire vuol dire che un tweet o è un tweet e basta oppure un tweet di risposta oppure un tweet di citazione ovviamente non è possibile visto che stiamo parlando di una specializzazione esclusiva che sia contemporaneamente di risposta e di citazione quindi in termini insiemistici abbiamo l'insieme dei tweet i due sottoinsiemi delle risposte e delle citazioni in cui compaiono per l'appunto la risposta in un caso e la citazione nell'altro queste ultime due soluzioni quindi con la specializzazione parziale e con la specializzazione totale e le tre sottoclassi entrambe permettono di andare a descrivere il limite che è dato dal fatto di non poter avere dei tweet che siano contemporaneamente di risposta e di citazione quindi o così o in quest'altro modo implicitamente io ho la possibilità di andare a dare un vincolo che descrive accuratamente l'impossibilità definita nel sistema twitter di avere un tweet che è contemporaneamente di risposta o di citazione a questo punto quali sono le linee guida generali per andare a descrivere un modello delle classi in generale il punto di partenza è quello di andare a identificare quali sono i concetti che compaiono nel nostro problema se ho a che fare con dei concetti che rappresentano dei concetti forti importanti che hanno un'esistenza propria che eventualmente hanno delle caratteristiche che li possono descrivere normalmente questi concetti ragionevolmente sono modellati tramite delle classi se io ho a che fare con dei concetti molto semplici un nome un numero di telefono questi molto probabilmente non saranno classi ma bensì saranno attributi di classi quando io ho un legame logico che associa due classi diverse due concetti diversi questo normalmente viene modellato come un'associazione nel caso in cui io abbia un concetto che è un caso particolare di un altro ecco che vado a utilizzare la generalizzazione in generale la generalizzazione io la uso esclusivamente se posso dire che b è un caso particolare di a questo è il modo di leggere una generalizzazione come faccio a valutare la bontà di un modello beh lo posso fare in base a quattro principali parametri il primo è la correttezza ovvero niente di quello che io voglio andare a rappresentare ovvero il mio problema che voglio andare a modellare il sistema informativo è rappresentato in maniera errata quindi nel caso del tweet che non può essere contemporaneamente di risposte di citazione ovviamente la prima soluzione che vi ho mostrato quella con le associazioni ricorsive opzionali non è corretta non è corretta perché mi permette di andare a modellare qualcosa che invece non è possibile devo avere un modello come questo che mi impedisce di avere un tweet che contemporaneamente è di citazione e di risposta il secondo criterio con cui vado a valutare la qualità di un modello è la completezza ovvero tutto quello che è rilevante deve comparire nel modello quindi tutti i concetti tutti i dati associati ovvero non devo dimenticarmi nessun attributo se ho la necessità di memorizzare nome e cognome numero di telefono ed email non mi posso dimenticare l'email deve comparire tra gli attributi di una classe leggibilità il mio modello graficamente soprattutto deve essere facile da leggere e comprendere è importante ricordarsi che all'interno di un ciclo di sviluppo del software e di un sistema informativo in particolare i modelli che vengono fatti per andare a descrivere il sistema sono il punto di partenza per la progettazione e la costruzione del sistema quindi se non sono facilmente leggibili è probabile che il sistema non venga creato nel modo corretto quindi i modelli che noi andiamo a creare sono fondamentalmente degli strumenti di comunicazione e la comunicazione deve essere non ambigua facile da leggere e da comprendere e immediata per questo motivo ad esempio si utilizzano notazioni che sono grafiche come i diagrammi delle classi uml e non semplicemente le descrizioni testuali perché le descrizioni testuali rischiano di essere molto difficili e complesse e faticose da leggere meno immediate sicuramente di una rappresentazione grafica quindi a fronte di un problema che io voglio andare a modellare in maniera formale tramite un modello informativo concettuale generalmente non c'è un'unica soluzione ce ne sono tante tra le diverse soluzioni è ovvio che dovrò andare a privilegiare quelle che sono più facili da leggere più comprensibili minimalità ovvero non devono essere presenti elementi che potrebbero essere evitati questo in parte legato all'eligibilità perché se io metto tanti elementi inutili ridondanti all'interno del mio modello questo è più difficile da comprendere ma riguarda anche se volete la controparte della completezza ovvero non devo mettere degli elementi che siano estrani quindi se io ho la possibilità di scegliere due modelli che sono ugualmente corretti e completi ecco ovviamente vado a scegliere quello un po' più semplice se io posso modellare il mio sistema con cinque classi oppure con otto classi ragionevolmente andrò a scegliere la variante con cinque classi perché è più semplice quindi questi sono sostanzialmente i criteri principali con cui vado a valutare la bontà di un modello informativo concettuale sono che ho che ho